L'importanza di celebrare e tutelare le donne non solo oggi 8 marzo ma sempre soprattutto ora che veniamo da un anno di pandemia dove gli episodi negativi purtroppo ai danni delle donne sono aumentati. C'è un tema di responsabilità e di consapevolezza degli uomini. La violenza crescente non può limitarsi a denunce nei fatti. Occorre una rottura di cultura di una società patriarcale che continua a parlare di parità ma in realtà pratica tutt'altro. La stessa cosa vale sui temi del lavoro, dell'occupazione e del salario perché da un lato tante parole le donne sono pagate meno, meno azioni perché questo meno diventi un più e diventi un giusto riconoscimento. Città metropolitana, le donne ma soprattutto gli uomini devono assumere questa consapevolezza e rompere con una continuità fatta di parole e non di atti coerenti. Consigliera questo progetto che parte oggi 8 marzo a sostegno delle donne coinvolge anche le scuole di tutta l'area metropolitana di Napoli. Com'è possibile per gli istituti accedere a questa importante iniziativa? Allora a parte proprio oggi l'avviso pubblico per le scuole ci sarà anche una scheda di partecipazione quindi tutte le scuole potranno aderire a questa formazione che sarà fatta naturalmente da remoto aderendo al format che sarà inviato per posto a tutte le scuole della città metropolitana. È una formazione completa che si adatterà all'ordine e al grado della scuola quindi potrà essere coordinata insieme con la scuola, insieme con la consigliera di parità e alla consigliera delegata e sarà offerto da parte della consigliera di parità tutto il supporto di tutti gli esperti, quindi università, piuttosto che ordini professionali, medici e si potrà quindi in questo caso provvedere a una formazione completa sulla cultura di genere non solo dedicata naturalmente alle donne ma una cultura di genere che vada a essere per tutti soprattutto per gli uomini.